Nessuna donna nasce prostituta, ma è spinta a farlo da una persona o da una filiera criminale che ne controlla la vita. Da questo concetto chiave di Don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, ha preso il via la conferenza stampa nella sede di Verona Fedele per lanciare la giornata mondiale antitratta, che si terrà sabato 8 febbraio alle 20.30 al Tempio Votivo con la partecipazione di cinque vescovi del Triveneto e della Superiore delle Canossiane. C'è una cultura troppo diffusa che è quella del tutto è lecito, se hai i soldi puoi fare quello che vuoi. E' questa cultura che danneggia alla radice i nostri rapporti. La comunità cristiana è chiamata ad alzare la voce e a far sentire che questo modo di pensare, che poi diventa un modo di agire, è inumano. E' il sesto anno che proponiamo questo evento in collaborazione con il Centro di Pastorale Giovanile, Diocesano, e con le Suore Canossiane di Verona. E' un momento di veglia e quindi preghiera, ma allo stesso tempo di riflessione, per far riflettere innanzitutto la comunità cristiana, ma non solo, su quello che è un problema planetario globale. La Papa Giovanni è presente da anni su strada, in rete con le istituzioni per combattere il fenomeno della prostituzione, che sfrutta tante donne anche minorenne e che si sposta sempre di più negli appartamenti. La comunità Papa Giovanni, seguendo un po' l'esempio che ci ha dato il nostro fondatore Don Oreste, scende in strada a incontrare queste donne che sono prostituite e cerca di costruire con loro una relazione di fiducia che è il prerequisito perché possano emergere da questo mondo. C'è tutto l'aspetto della prostituzione indoor, non solo nei locali o nei centri massaggi, ma anche proprio in appartamenti, sui quali è molto più difficile intervenire e anche riuscire ad avere delle mappature. Un risultato concreto in un anno dalla giornata antitratta 2018. È nato il modello di intervento passo dopo passo. Con le forze in rete sono state aiutate quattro donne uscite dalla tratta con i loro figli, che hanno trovato casa grazie all'opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera e lavoro con la cooperativa sociale Quid.